Al campo del centro federale di Sarodia ad Oristano, l'ossese allenata da Giampiero Loriga ha conquistato la Coppa Italia di eccellenza regionale, superando in finale 2-0 il Castiadas ed ha così festeggiato, nel migliore dei modi, i 60 anni dalla sua fondazione. La gara è stata decisa da un gol per tempo, i bianconeri sono partiti al galoppo con azioni manovrate e ripetute, lasciando ben poco spazio agli avversari che hanno fatto una gara d'attesa, sperando in qualche ripartenza con lanci lunghi verso il loro attacco, ben controllato dai difensori bianconeri. La prima rete è arrivata al tredicesimo del primo tempo, traversone dalla sinistra nella parte opposta dove Hubertazzi, con precisione, ha girato di testa verso Chelo, stop di destro, palla sul sinistro e conclusione angolata che non ha lasciato scampo a Zarzo. Al settantasettesimo il raddoppio, Scognamillo ha attaccato centralmente e ha smistato sulla corrente Madeddu, libero sulla destra, il quale è entrato in aria e ha calciato un pallone leggermente deviato da un difensore, entrato in rete senza che Zarzo potesse intervenire. La vittoria è dedicata a tutta la nostra comunità, commenta la società, a tutti coloro che sono sacrificati per anni nel loro scuro lavoro di garantire a tutte le compagini, non solo la prima squadra ma anche alle altre del settore giovanile, sino alla scuola calcio, con dedizione e passione, quali dirigenti e gli sponsor, gli staff, allenatori, collaboratori, tifosi, sostenitori, tutti che hanno creduto nel progetto e alla fine è stato raccolto quanto seminato. Lo sese succede nell'albo d'oro al Carbonia di Andrea Marongiu che l'8 febbraio 2020 si impose in finale 1-0 sull'Atletico Uri con gol di Giuseppe Meloni. Lo scorso anno la Coppa non è stata segnata a causa delle limitazioni provocate dalla pandemia da coronavirus.